Ok, vediamo un po' come sta Spades Mai più Ci morirà anche lui Comunque ho visto una capra qua da qualche parte Do-do-do-do'è? No! Ma- Finiscilo! Oh! Ciao a tutti ragazzi, come state? Sono Pierre e bentornati a un altro episodio di RimWorld Prima di iniziare vorrei chiedere una cosa Ho visto che c'è Fallout 4 in sconto su Steam E stavo quasi quasi pensando di prenderlo Ah, c'è già giocato ai Fallout 3 E un po' anche al 4 Però mi ispira Potrei farci una serie, che ne dite? Vi piacerebbe? Varebbe la pena? Fatemi sapere nei commenti, mi raccomando Ok, torniamo al nostro disastro Madonna, oh ragazzi Qua c'è un morto Bome Oh cazzo Poi almeno stiamo iniziando a pulire Robert si è velenato Orca vacca Orca vacca Devo fare altre tombe qua Allora, struggiamo questo muro E andiamo a scavare Un altro po' Perché c'è un maffalo morto qua Non può andare al macello Benjamin Vabbè Extreme break risk Breaks, cazzo Breaks Breaks Eh, vai come state? Scusate, guardiamo un attimo Infection major 68 Cazzo, questo è malissimo No, space No Qualcun'altro aveva infezioni Rob Tu sei a posto Sì Per l'altro devo mettere la gamba prostetica Lui Isabel Non c'è più Bome Non c'è più Space È l'infezione E anche cas Immunità È abbastanza buona Qua Non tantissimo Cioè C'è Siamo oltre Però Non abbastanza Monkey Sta benissimo Tanto lui era in bonazza Allora, dobbiamo assolutamente curare lui Appena si può fare Ok È stato curato meglio Sì ma non ce la facciamo Troppo scarto Infection 71 Immunity 59 Oh madonna Come benjamin Ma che cazzo Mamma mia benjamin Sei una pipetta Vai un attimo giù Sei una merda Ci morirà anche space Ok Comunque Su richiesta Ho caricato la mod Per Produrre Ehm Come Ah dove cazzo è Oh madonna Santa Cosa succede Medical emergence In cas 88 99 Ok Questa è a posto 99 99 Merda 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 Oh Grazie a dio Cazzo Space Cosa fai là Resta a riposare Madonna Santa Ti uccido Mamma mia Ok Stavo dicendo Ho caricato la mod Per Costruire gli androidi Guarda quanta ricerca Ragazzi Non finiremo mai più Sta partita Oh Basic Robo 600 Poi potremmo fare Le T1 Basic artificial creatures Puoi fare Anche gli animali Bionici Cosa Strong caravanning Creature That can carry Lots of weights On their back Madonna Che figata Che figata Poi puoi fare Anche i potenziamenti Tipo Basic announcements Benjamin Ma dai Veramente Benjamin Ah food poisoning Sto qua Un attimo di malessere Mamma mia Ok Tu sei al posto Benjamin Vabbè Lasciamo perdere Benjamin Meglio Left leg Allora Rob Devo mettere una gamma Prostetica Perché ancora La peg leg Allora Costruiamo Un'altra 55 steel Ah cazzo Abbiamo poco steel Ah vabbè che abbiamo questo da scomporre In realtà Ci sono esplose due torrette Addirittura Madonna Questa non è l'elettricità What Qua dovremmo creare un'altra Ci serve ferro Assolutamente C'è ferro da quel che parte qua Qua vicino Magari Qua c'è un po' di ferro Qua c'è un po' di ferro Ok Miniamo tutto questo ferro Ferro Manca cibo Manca cibo Qualcun altro sa cucinare In questo posto Postaccio Baracuda Baracuda Tu come sei messo Vabbè dai Sai fare cose Quindi per favore Ok Vediamo un po' come sta Space Mai più Ci morirà anche lui Comunque ho visto una capra Qua da qualche parte Dove Dove Ah aspetta Si era Autotamata Maredetta Non ci serve una capra Un caprone Ah ma aspetta Possiamo usarla come Attacco In realtà no Cioè Troppa roba In realtà forse Va col fieno Ok Iniziamo a avere Troppi animali Perché non abbiamo più fieno Perché dobbiamo raccoglierne qua Però io direi di iniziare A decimare un po' I pig Tipo qua Ce ne sono bei tre maturi Qualche femmina Magari Sono tutte incinte le femmine Porca Pacca Qualche tacchino Anche Uno e due Cow Cow Bull Bull Ci sono due bull Che non ci saranno Ci sono solo Ci basta solo un bull Possiamo uccidere Quello iniziale Tipo E questo Yes Adesso arriverà un po' di carne Dai almeno Space Ok 95 In minuti 91 Forse ce la possiamo fare Aspetta Fermi 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 Dove è Michael? Presto Ok Ok Speriamo bene Space Mamma mia Starvation Chi è Starvation? Brakes Chi si va a dare delle patate? Ah Space Oh Sì 97 97 Ok 98 Una donna 89 Sì Space Uno di noi Space Mamma mia Ok Siamo salvi Benjamin sta male Chi era l'altro che cucinava? Barracuda Barracuda La devi cucinare assolutamente Ah Cazzo Noi non abbiamo più Nessuno che ricerca Eh no Abbiamo Rob In teoria Rob Potrebbe essere buono Che stupido Abbiamo questi Ragazzi Me ne sono dimenticato Completamente Abbiamo Ressurrector Serum Oh mio Dio Ma sono un cretino Ma Dio santo Sono un cretino Proprio Red Health Non possiamo più usarli Come si usa? Come si usa? Come si usa? Ok ragazzi Possiamo resuscitare Qualcuno Allora Chi ci serviva di più? Cazzo Che brutta scelta Allora So che Red E Bowman Erano importanti Per la ricerca E quasi quasi Io terrei loro Anche perché Sono bravi a sparare Vedi 13 e 15 Intellectual Un sacco Isabel Aveva anche Isabel In realtà Ed è brava con le piante Cazzo Che dramma Ma forse è meglio Bowman Che Red Perché lui ha Red ha 13 e 16 Di Intellectual E lui ha 15 e 17 Di Intellectual In più Dorme prima Cioè Allora sì Io direi Bowman Assolutamente Monkey Oh mio Dio Ragazzi Questo è un momento Epico Attenzione Attenzione Oh mio Dio Guarda quanta merda Aveva Ho paura Ho paura Ho paura Bowman Adesso è uscita Bowman Si può fare Si Bowman Resurrection Sickness Blindness Cosa 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 Blindness Perché Non ci vede più No Veramente No Non ci credo Ma perché Ma forse è solo una Forse è solo una condizione Spero È una condizione Vero Madonna Brividi Oh Fanno vedere i brividi Sta roba Ok Dobbiamo usare Dobbiamo risuscitare Anche Isabel Ah 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 Holy shit Demenzia Ah Vedi Ok Eh sì Risuscitare i corpi Ovviamente Non Non porta esattamente Quello che ti aspetti Infatti lei è diventata demente Porca vacca Tocchi Hiri mette 5 Merda Madonna Che succede qua Ah Il disastro No 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 Si stanno mangiando Si sono mangiati i corpi In 3 2 1 Maledetti porci Maledetti porci Allora mi sa che Adesso il vario prigioniero Non ce la facciamo mai più Però potremmo andare a completare la missione Che ci da Energia gratis Questa qua Infatti questa quanti giorni abbiamo? 3 giorni Mai più Allora qua Dobbiamo sconfiggere 7 nemici E abbiamo un giorno di viaggio Ovviamente noi ci dobbiamo portare tutto il macello Di roba Mortaio Roba Ah non abbiamo ferro però Cazzo Facciamo fare degli occhi GoldenEye Figo Light receptor Madonna Bowman diventerà Una specie di zombie Con gli occhi tipo Color vitreo Tipo opachi Che figo Oh Abbiamo solo un po' più di cibo Grazie a Dio Ah c'è solo qualcuno che mini però Ah Spacer è il nostro minatore preferito Yes C'è poca luce o sbaglio qua? Mettiamo un'altra lucetta Magari Andare in giro a cercare per la mappa Eccolo tipo qua Mine Spam Bowman Come stai? Non vedi un cleanse però Blindness Cioè Vabbè Oh yes Finalmente avremo la gente thermal power Yeah No Ma Finiscilo Oh Oh yes Guarda che bello Va bene ragazzi Per oggi è tutto Beh Pian piano ci siamo ripresi Prossimamente dovremo viaggiare verso la missione E uccidere quei banditi Così magari Prendiamo un po' più di energia Poi Ricordiamoci che avremo anche Da costruire gli endroiti Va bene Vi saluto E come al solito vi ringrazio Ci vedremo alla prossima puntata Ciao 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 Grazie a tutti